Ho visto un bellissimo documentario, poi mi sono addormentato verso le 3 e le 4 di notte, sappiamo che la tele... mi sembra sul 4, faccia vedere la villeggiatura, la televisione italiana fa i documentari belli la notte perché non li guarda nessuno, ovviamente, no? E faccia vedere la villeggiatura. Allora, noi dobbiamo pensare allo sviluppo, io conosco bene la Romagna perché qui ci sono nato, cioè ci sono nato, insomma la conosco bene perché ho lavorato a Spiaggia tanti anni, so cosa vuol dire stare a Spiaggia, cosa vuol dire il mondo della Spiaggia e via dicendo. Ho aperto lettini e ombrelloni per tanti anni. Al di là delle problemiche sulle paghe, che sinceramente non mi interessano, nel senso che poi alla fine la Spiaggia è un dare, è una vera, nel senso che alla fine stai al sole, stai al mare. Pochi costumi e tanti sdrai. Allora, pochi bichini e tanti castelli di sabbia. Allora, per parlare di cose serie, volevo parlarti appunto della rivoluzione sociale, ok? Che ha portato la villeggia, cioè voi dovete capire che l'Italia nel dopoguerra non era niente. Cioè noi eravamo bombardati, rasi al suolo. Dopo loro ci hanno comprato questi scappati di casa, che ci hanno coinvolti in un'altra guerra. Adesso siamo coinvolti in un'altra guerra non per nostro volere, tant'è vero che poi alla fine proprio l'italiano si è ribellato e è mandato a casa giustamente Drago. Praticamente, vabbè comunque, eravamo spianati. La villeggiatura era una scoperta, cioè l'italiano, l'italiano medio, sì c'era qualche colonia fatta dal fascio, però l'italiano non sapeva cos'era il mare. Cioè la massa popolare, cioè era una scoperta il mare. Perché c'è stato il boom? Tant'è vero che lì dicevano bisogna prenotare l'ombrellone. No, prenotare, la spiaggia andava prenotata, perché milioni di persone, milioni, tant'è vero che ho letto un bellissimo articolo su Quattro Ruote di un turista inglese, gli inglesi sono molto naturisti, insomma hanno il catcher, che dice la vostra scosta è molto urbanizzata, troppo urbanizzata, avete una bellissima nazione ma la vostra costa è troppo... Perché? Perché questo? Perché col boom del turismo, diciamo che sono stati costruiti dei palazzi, e la Romagna è un esempio, sul mare, perché diventavano strutture, servivano migliaia di posti letto, ok? Ma la villeggiatura non era come adesso due giorni sabato e domenica e poi lunedì partono tutti, perché ho lavorato a spiaggia, lunedì partono tutti, non diciamo balle, tranne il turismo locale, ma il turismo locale lavora, quelli che abitano a San Marino, a Morciano, quelli lavorano, quindi quello non è turismo, anche se te vedi centomila persone a spiaggia, quella è tutta l'entroterra, così come a Fano, c'è pieno di paesi, Senigallia uguale, che vanno verso il mare, ma quello non è turismo, quelli sono i... quelli del posto, che scappano dalla caldagna e vanno sulle... ovvio che tu se abiti a Rimini in centro, non ti spacchi di sole, no? Alla domenica pomeriggio, vai al mare per forza, ci arrivi come ci arrivi, ma prima o poi ci arrivi, ok? Al di là della polemica sul lungomare, non voglio aprire... Comunque, quindi la villeggiatura è un fenomeno di costume italiano meraviglioso, cioè nascevano i primi hotel, i primi alberghi, no? Le prime... le colonie erano già nate, però la colonia aveva più una funzione sociale, e adesso nasce la vacanza, perché poi gli arrivano i primi soldi, no? Arrivano le strade, arriva l'automobile, che è un elemento di distinzione sociale, badate bene, i poveri non ce l'avevano, adesso hai i Rolex, ma nemmeno, hai il macchinone, cioè come immediata, hai la firma, e adesso dopo è arrivata la moda, perché la moda è la moda della borghesia, Armani, Gucci, Prada, cioè se hai i soldi, devi dimostrare di avere i soldi, devi far vedere che hai i soldi, quindi hai la macchina bella, o il vestito firmato, o le scarpe firmate, da 200... c'è un prodotto da 20 euro, un prodotto da 2000 euro, ok? Quindi nasce la villeggiatura, e la villeggiatura popolare soprattutto, ok? E nasce il bikini, perché il bikini nasce nel 1963, badate bene, e qui che è finito, cioè uno dice, no, ma la crisi del turismo baleare, il turismo baleare è finito, è finito, cioè uno dice, sì, ma Rimini ha perso la PIL, ma non è che è colpa solo di Rimini, sì, Rimini ha commesso degli errori, la politica riminese, perché non si è adattata al mondo che cambia, ma non è solo Rimini, io parlo di Rimini, tutta la riviera, puoi passare da Jesolo fino ad arrivare... la Romagna parte da Jesolo, il modello Romagna, arriva fino a... ma addirittura prima di Jesolo, arriva Milano Maritti, Macesenatico, Cervia, arriva fino a tutte le Marche, il modello balneare, balneare, ok? Ma poi anche l'Abruzzo, arrivare la Puglia, ha avuto un boom tardivo, perché la Puglia era sottosviluppata, hai capito? E sono arrivati grandi capitali, è diventata una moda la Puglia, la Puglia si è venduta bene, capito? Quindi cosa vuol dire? Questo turismo balneare entra in crisi nel momento in cui... c'è la crisi del balneare, il turismo balneare, la villeggiatura, è nata 70 anni fa, hai capito? Rimini non è sul mercato, ma Rimini soffre una crisi di costume, c'è il turismo, mordi e fuggi sabato e domenica, tornando al bichini, nel 63 la donna è libera di scegliere, attenzione, prima era sottomessa in Italia, non aveva nemmeno diritto di voto, cioè il fenomeno balneare si innesta sull'emancipazione femminile, la donna si mette in mutande, non a caso, hai capito? Poi facevano vedere che i mariti coprivano le mogli perché altri uomini non le guardassero, pensate com'era l'Italia di un tempo, poi parliamo dell'Italia del Nord, secondo me, in quel documentario, il Sud è arrivato dopo, c'è stata un'immigrazione femminile che si è ribellata nei confronti di costumi retrogradi e antistorici, ok? Ma questo è un altro discorso, certe isole, non faccio nomi, sono ancora rimaste a un'Italia antica, del dopoguerra, contadina, quindi il turismo ha innescato la modernità, perché? Intanto sono arrivati i soldi, ok? E dove sono nati gli alberghi e da noi lo vedi? C'erano i campi, quindi è nata una nuova società, ok? Adesso la villeggiatura è finita, cioè la villeggiatura, tipo Bellaria, no? La vedi la villeggiatura, ci sono persone che vanno lì da 70 anni, ma quando questi non ci saranno più, la gente prenderà Ryanair, prenderà la meridiana, capito? Perché quando vai in ufficio devi dire che sei stato a Ibiza e Formentera, capito? Soprattutto se sei una donna, no? Eh, se sono state a Ibiza, sai quanti uomini ho rimorchiato, ormai è così, no? Le donne sono, cioè, le donne di oggi, la donna si è conquistata, giustamente, la posizione sociale che merita, ok? Ma come se l'è conquistata? E' inutile fare i puritani, i moralisti, i... Capito? Cioè, le femministe a volte, se stessero zitte, sarebbero più bella figura.